Scatta la caccia a medici, infermieri ed assistenti sanitari, ammessi anche laureandi e pensionati, l'obiettivo 200 operatori. È l'Asla Toscana Sud-Est a premere adesso sull'acceleratore per assumere con l'obiettivo di sostenere in particolar modo la campagna di vaccinazione anti-Covid, ma anche l'opera di tracciamento dei casi e l'attività di medicina scolastica. Il direttore generale Antonio Durso ha così firmato la delibera che stanzia 6,8 milioni di euro per sostenere la campagna da qui al prossimo 31 ottobre, salvo rimodulazioni da legare alla durata dello stato d'emergenza. Il provvedimento è dunque articolato in tre avvisi di manifestazione di interesse, affidamento di incarichi di lavoro autonomo di natura libero professionale a medici, di lavoro autonomo di natura libero professionale ad infermieri ed assistenti sanitari per l'attività di tracciamento e vaccinazione, ricerca di personale sanitario volontario che si rende disponibile a fornire gratuitamente prestazioni professionali per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti-Covid. L'obiettivo della campagna di reclutamento è dunque quello di individuare tra le 150 e le 200 figure professionali da impiegare subito e per i prossimi mesi con un impegno da 35 ore settimanali per medici, infermieri ed assistenti sanitari tranne i turni ridotti per il personale volontario.